BELLA A TUTTI RAGAZI, QUI ENRIKI E OGGY SIAMO QUI CON UN'ALTRO EPISODIO DELLA NOSSA CARRIERA ALENATORE CON IL BARI DOPO IL CALCIOMERCATO RAGAZI, O MEGLIO, IL CALCIOMERCATO, DICIAMO CHE VEDETE DAL CALENDARIO E' QUI, MANCANO POI LE 10 ORI DI MERCATO Ma non dovrebbe succedere niente di clamoroso anche perchè noi non abbiamo soldi, giocatori non ne vogliamo vendere, quindi vediamo un po', allora direi di partire ragazzi a giocare la partita contro il Napoli, mamma mia che squadrone stiamo affrontando ragazzi, giochiamo con la formazione titolare con Conti, Selke, Lombardi, cioè veramente ragazzi squadrone, io direi leggenda 4 minuti nuvoloso, curiosissimo di provare questi nuovi acquisti E quindi si va nel match Ragazzi vediamo la formazione del Napoli Allora, uh si è comprato Dost il Napoli Insigne, Cagliaon, Amsic, Zielinski, Sergi Roberto anche, Balenciaga, Maximoci, Yamat, Bauman in porta e ha fatto ottimi acquisti ragazzi il Napoli alla terza stagione e ora noi siamo pronti Bella così, tienila Bani, che ci fa Bani lì a centrocampo? Non lo so ragazzi però vabbè, proviamo ad andare avanti, vai Selke, bellissimo l'appoggio per Lombardi, Lombardi vede Selke e non ci arriva Bella questa palla per Selke, che può far salire Gil, vai Selke, vai Selke che hai visto Andrea Conti, Andrea Conti, uh fosse filtrata ragazzi saremmo stati in porta Selke allarga per Conti, Selke deve andare in mezzo, Conti tienila, bravissimo, che giocatore il nostro Conti, vai così Azione avvolgente da parte dei nostri ragazzi, eccolo Gil che riceve palla, Gil col sinistro palla fuori Dai dai dai, dai a ripartire bene, Lombardi si appoggia dietro su Teio, che resiste qui all'opponimento di Amsic, vai ragazzi Secondo me possiamo gestirla bene questa partita, non siamo inferiori come pare, perché il Napoli ok, gran bella squadra, non lo metto in dubbio, però noi abbiamo le nostre carte Vai Barella, vai Barella, sali, 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 sali come un forsennato, ecco Lombardi, Lombardi la tiene, Gil si appoggia, bellissima questa palla Uh, oddio, è buona Lombardi, traversa, incredibile, mamma mia che scambio che avevamo fatto, maledizione Vai Barella che l'hai presa, vai Barella, mannaggia Coulibaly mi ha interrotto la gioia Ma che bella squadra ragazzi, in fase di pressing, certo, magari non terremo tutto questo pressing per tutta la partita, però dai 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 Bari Maledizione, maledizione Arriva l'1-0 da parte del Napoli dopo che abbiamo preso la traversa, guardate che azione corale che ci ha creato il Napoli Bella palla in mezzo, praticamente i nostri difensori si sono fatti sorprendere alle spalle Purtroppo arriva il vantaggio di Caglieon, immeritatissimo secondo me perché veramente stiamo giocando solamente noi E vediamo se sfruttiamo il kickoff glitch, no Dai ragazzi, inizia questo secondo tempo, non dobbiamo farci abbattere perché comunque abbiamo le qualità per recuperare il risultato Certo, siamo a Napoli, lo so è difficilissimo ma ci dobbiamo provare, eccolo Selke Selke, pallone messo dentro, Amsic fra da Francifrutti Dai 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 Barella, inventa qualcosina, perfetto così Selke la difende, vede a rimorchio Gil che può entrare in aria Deve frenare Gil, oddio la palla è buona Vai Gil, vai Gil che sei entrato in aria Rientra Gil, mettila per Selke, no Dai 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 che c'è spazio Vai Selke, ti prego Regalaci la gioia, Selke Selke, palo Vabbè ma che sfiga di merda però ragazzi Cioè, due pali nella stessa partita Non si possono vedere, mannaggia Qua mi ha pure recuperato palla Attenzione al Napoli con la sua manovra avvolgente Fermiamoli ragazzi, fermiamoli Mamma mia se prendevamo questo gol Vestemmiavo in tutte le lingue del mondo Dai ragazzi, vai Gil, comanda questa azione offensiva Vai Gil, che hai visto Selke Bravissimo, Selke, tienila, tienila Mamma mia che giocatore intelligente Selke ragazzi Anche Gil sta giocando veramente bene, devo dire Bravi due che dialogano Vai Gil Eh vabbè Amsic di un'altra categoria Farei qualche cambio ragazzi Allora Gil lo vedo stanchissimo Entra Petriccione Al posto di Barrella entra Zanellato Poi davanti mettiamo Piu Giusto per dare un po' di vivacità Dai Selke, tienila bene Selke Aspetta un compagno Dai Dai che l'hai visto Destro secco No vabbè ma non è E' stregata quella porta Non è possibile Bravo l'anticipo di Bani Bani la tiene Vai che c'è Selke Selke Mettila per Andrea Conti Ancora Selke Selke col destro la palla Rimane lì Dai 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 Maledizione ma La fortuna non ci assiste proprio Dai così Andrea Conti Che si appoggia Vai che questa è una delle ultime azioni Bellissima questa palla Vai mettila dentro C'è Piu Piu può entrare in aria Mettila Nooo Ho sbagliato io ragazzi Ho sbagliato io La dovevo calciare Mannaggia a me al novantesimo Che occasione Che mi sono mangiato Perché l'ho voluta mettere in mezzo E finisce il match ragazzi Allora A parte quest'ultima occasione Che ho sbagliato io Immeritatissima la sconfitta Non so perché zero Ah eh sì è vero Perché non abbiamo centrato la porta Però ragazzi Due pali Un attraverso Un palo clamoroso E vabbè Queste Queste partite Comunque devono farci crescere Secondo me Mbappé è andato Al Manchester United Per 117 milioni Minchia mamma mia Tanta tanta roba Tanti milioni Direi che il nostro mercato A meno che non arrivano offerte Non Non facciamo granché 4 milioni e 9 per Ateboer Allora facciamo così Deleghiamo E direi di non vendere Per meno di 6 milioni Ragazzi Ateboer è un giocatore che mi piace 74 di overhaul E via dicendo Però so che Comunque Uh per lombardi 5 milioni e mezzo Mi chiedono Eh no L'abbiamo già rifiutato Ok Ripeto Non è male come giocatore Ateboer Però se ci riesco a guadagnare Così tanto Volendo Qualcosina Intanto il Napoli si è comprato anche Pedro Mamma mia Punta lo scudetto A questo punto Io direi Vediamo Vediamo come finisce questo mercato Arriva forse l'offerta per Ateboer Vediamo 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 No Ancora un'offerta per Lombardi Il Club Bruges Trattiamo Vediamo La voglio portare io avanti questa trattativa Ragazzi E faccio una nuova offerta Se me lo riesco a vendere Per 6 milioni e mezzo Lo do via Però vediamo Vediamo Ehm Ok Ok Ragazzi Hanno Hanno offerto 6 milioni e mezzo Quanto chiedevo E quindi probabilmente lo diamo via Lombardi A questa cifra secondo me è ottimo Perché poi a gennaio possiamo intervenire Ehm Oppure anche durante la stagione Ehm Non è che dobbiamo aspettare per forza a gennaio Però a quanto pare non so se l'abbiamo venduto Vi dico la verità Vediamo Vediamo queste email di fine mercato Allora Trattativa interrotta per Ateboer Ok Trattativa interrotta anche per Lombardi Calcio mercato chiuso Offerta nazionale Ehm Re secondo mensile Paoligno Ehm Tu devi crescere Che ti devo mettere in squadra Lo so Ok Perfetto Quindi Facciamo gli allenamenti Ragazzi E probabilmente nella prossima partita Faremo un cambio di modulo Ragazzi è arrivata un'offerta Per Petriccione Io la vado ad accettare Perché Petriccione Lo vedo ormai fuori dal progetto Un milione circa e cento Da parte del Parma Potrebbe potrebbe servire Ecco qui Ora c'è il Milan in casa Ragazzi Mamma mia Però vediamo queste email Ehm Ho appena saputo che la squadra Chiavo Verona Ha presentato un'offerta di prestito Per Fofanà Va bene Allora lascio perdere U è arrivato Sono arrivati altri rapporti Osservatori ragazzi Allora vediamo un po' Uh Questo Francisco Rotella Ingaggiamolo Nella primavera Che non è male Poi lui Lo togliamo Vi faccio vedere tutto in diretta Rifiutiamo lui Anche lui non mi convince E lui non è male Ingaggia giocatore Ehm Aguado Non mi piace Poi Javier Marquez Ok 91 di potenziale Ma parte troppo basso Manolo Reina Ingaggiamolo Non è malvagio Poi Togliamo Maresca Togliamo Alvarez Togliamo Alfonso Che non è male Ok Però non mi convince Tutti questi giocatori qui Io direi che possiamo Toglierli Ok Stop trattative Ecco Siamo tornati nel bug Ragazzi Allora Mario Lemina Quanto ha 81 di overhaul Ok Pensavo qualcosina di meno Tom Davis Che ho chiesto comunque informazioni Eh questo è un bel centrocampista Ragazzi È un gran bel centrocampista Che seguirò sicuramente Ok ragazzi Affrontiamo il Milan Dopo il Napoli Anche il Milan Quindi tanta roba Uh Aguero Il Milan si è preso Aguero Oddio santo Allora facciamo una cosa Cambiamo modulo Usiamo il 4-2-3-1 Che tanto bene Ci ha fatto giocare Gioca Kresic Gioca Gil Come trequartista Anzi no Io vorrei provare Oscar Come trequartista Lombardia a destra Piu Qui Selk e centrale Anzi ci metto Andrea Conti Assolutamente Ma il capitano lo fa a bani Ok Sì Sì direi che la formazione perfetta Leggenda 4 minuti Pioggia Si va nel match Si comincia ragazzi E sono curiosissimo Di vedere la formazione del Milan Allora vediamo Aguero Suso Niang Anderson Locatelli Kriko Viac Riccardo Rodriguez Bonucci Musacchio Bellerin E Gabriel Eh ragazzi Squadrone per il Milan Noi ci proviamo Dai ragazzi Dai Kresic Dai Spilungone Vai Kresic che l'hai visto Tieni la Oscar Bravissimo Bello il pallone dentro Va bene va bene Kresic non ha proprio il piedino Per lanciare Ma ci siamo Conti deve lanciare Selk Anticipo di Bonucci Ragazzi L'intesa Conti Selk è ancora da limare Ma ci possiamo lavorare Vai Andrea Conti Tu sei un ex Mi raccomando Non mi deludere Scatta sulla fascia Conti Ragazzi Scatta sulla fascia Selk deve andare in Mezzo Mannaggia Niang Ti odio Ti odiavo Cioè ti odio Quando stavi al Milan E ti odio anche adesso Bravo Conti Che però strappa il pallone E rientra Dai Andrea Conti Mettici sto fisico Bravissimo Poi a Teboer Voglio un bel cross Col mancino Non ci arriva nessuno Mamma mia Andrea Conti Come sta giocando bene Ragazzi Dai 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 Forza ragazzi Bella questa palla Vai Selk Vai Selk Rientra Selk Il pallone dentro per Piu Piu prova ad allargare Per Conti Troppo lungo Attenzione a Guero Interviene Capitan Bani Bella questa palla Cerchiamo di allargare il gioco Benissimo Selk la difende E fa partire lì Se non sbaglio Rateio Selk deve lavorare Un pochettino di più Per la squadra Però si sta impegnando Dai Selk Tieni la Selk Bravissimo Aspetta l'inserimento Di Oscar Oscar sta giocando bene Quindi devo dire Buon acquisto Per ora Vai Oscar Mettila per Selk 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 dentro Qua che dovevi essere egoista Invece l'ha voluta passare Non ci credo Non ci credo Mannaggia Prendiamo i gol Tutti uguali Maledizione Rodriguez Ci ha segnato Ma i gol simili Dobbiamo migliorare un sacco In difesa ragazzi Ok che stiamo giocando Solo contro grandi squadri Infatti Conti che fai Infatti La sfortuna ci assiste Perché teniamo Un Un calendario Veramente brutto Però dobbiamo Migliorare queste fasi difensive Dai ragazzi Belli tenaci A recuperare questo risultato In qualche modo Vai Oscar Vai Oscar Tieni la Aspetta Perché non si muove nessuno Bella Piu Mettila per Selk Selk non sbagliare Non ci credo Gabriel che mi fa queste parate Proprio che a Selk Non me lo volete far segnare Va bene Vi restitirà tutti Con gli interessi Bravo Kresic Attenzione al Milan Col Kunagüero Che allarga verso Suso Suso che Dà un sacco di fastidio Ma qui interviene Anderson E ripartiamo Dai dai ragazzi Dai ragazzi Non molliamo Vai Piu Scatta Piu Perfetto Vai No Ma come te la sei allungata Bravo Piu Bravo Piu Almeno si impegna Un po' Il Borini del Milan Di quest'anno Piu Attenzione a Suso Ancora lui Tiene il pallone Non fatelo crossare Vi prego Ma davanti si marca Non da dietro Madonna raga In difesa mancano un po' Di fondamentali Mi sa che a gennaio Interveniamo un po' Sulla difesa Vai ripartiamo Ripartiamo Oscar Vede Selk Selk Sei da solo Devi in qualche modo Portare avanti la squadra E lo fa benissimo Questo giocatore magico Che entra in aria Selk Selk Oh vabbè Ma come mi hanno ostacolato Vabbè Sono stati bravi Nulla da dire Eh qui teniamo pure Aguero in campo aperto Che con un po' Di fortuna Va avanti Chiudiamolo Chiudiamolo Bravo Anderson Che bel giocatore Anderson Dai ragazzi Ripartiamo Oscar Fai correre Conti Vai Conti Non fermarti Dai che hai visto Selk Niente L'intesa è ancora da perfezionare Dai Bari Dai Bari Eccolo Selk Che si appoggia su Oscar Oscar prova a restituire il pallone a Selk Ma non avviene questo E può ripartire il Milan E stiamo attenti perché il Milan Praticamente ha fatto una discesa Un gol Sono stati cinici al massimo Quindi dobbiamo stare molto attenti Dai Oscar Dai così Bella Piu Vai Piu Vai Piu Che hai visto Conti Conti mi raccomando Conti rientra Perfetta Vai vai Selk Che l'hai visto Mannaggia Gundo Pure Gundo Che ne si sono presi Piu Il pallone dentro Dai che manca poco ragazzi Dobbiamo svegliarci adesso Ora o mai più Vai Kresic Vai che hai visto Andrea Conti Andrea Conti Col mancino la parata E vabbè Ma che sfiga maledetta La palla non vuole entrare Per nessuna ragione Dai praticamente ultima azione Vediamo se l'arbitro ce la fa fare prima di tutto Paisel che tienila No Fischia subito l'arbitro Altra sconfitta Episodio che sta andando malissimo Però non mi sento di criticare i miei giocatori Perché Almeno dagli highlights Penso che l'avete notato Comunque stiamo giocando bene Però quando ti trovi Questi squadroni Sicuramente Non è semplice Però vediamo Vediamo qui nel frattempo Se sale qualcuno o no No ragazzi Due mesi di stop Per Andrea Conti Vabbè ma sono sfigato Nell'anima Maledizione Ci ringrazia Kresic Ma che sfiga Ragazzi Vuole prendere in prestito Il Grisby Town Il nostro DHT Io accetto Perché lì potrebbe Sicuramente Fare la differenza Allora Ora arriva il Torino Ragazzi Vediamo il calendario Però Abbiamo ora Torino-Udinese Direi che ci simuliamo Con l'Udinese Ce la giochiamo Col Torino Però Per andare un po' avanti Quindi Ma il Torino è in casa Ah anche Arriva un prestito Da parte del Marittimo Per De Luca Io lo accetto Questi sono tutti i giocatori Che possono andare in prestito Senza problemi Ok ospiti Quindi dobbiamo giocare L'unica cosa ragazzi È che Per giocare Contro Il Torino Io me la voglio rischiare Col 4-1-2-1-2 Voglio rischiarmela così Con due attaccanti Magari come trequartista Facciamo giocare Gil Kresic davanti la difesa Barella Teio Direi che la difesa È appostissimo così Peccato per Conti Infortunato Mannaggia a lui Dai 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 Direi che ci siamo Quindi Legenda 4-2-3-2-3-1-2-2-3-0 Si va nel match Ragazzi Torino Che schiera Baselli Firro Giaic diabetes Buon centro Campo Amavi Julia Sirigu Dai Questa secondo me È una formazione Che certo Siamo fuori casa Giochiamo in casa del Torino Ma secondo me È battibile E qui Voglio i tre punti Non ci sono scuse Voglio assolutamente I tre punti In questa partita Perché siamo fermi a tre e non va bene assolutamente io voglio questi tre punti voglio andare a sei punti in classifica qui subito azione abbastanza pericolosa vai a Kimi, vai a Kimi rientra bravissimo, metti là dietro perfetta, barella col destro palla fuori dai che siamo in anticipo, a te Boer bella questa palla, vai Selke Selke col destro, mannaggia Sirigu, attenzione al Torino con Berenguer che è velocissimo attenzione può metterla dentro no, si appoggia dietro che bella finta di Baselli che bella finta di Baselli, ma Mikai c'è che bella palla di Barella Selke vede la sovrapposizione di Hakimi, vai Hakimi solo che non c'è nessuno in mezzo, ma Selke no, è Barella, mettila per Rajcevic appoggiati, mettila bene Gil, perfetta Kresic, Kresic col destro rimpallato, riparte il Torino, bella Selke che recupera, Selke però mi raccomando tienila bene il nostro caro armato mettila, mettila sì che l'hai visto? te io col sinistro niente, sono un muro in difesa questi del Torino ancora Barella azione interminabile madonna se filtrava dai, dai, dai ragazzi non mollate mai eccolo Rajcevic Rajcevic può andare vede Hakimi Rajcevic, madonna mia sei candidato ad essere peggio di di... come era Cherry l'anno scorso eh, qua se ne va pure via Lihaic alla grande no, Lihaic ai, 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 ai scimicai bravissimo dai ragazzi Teio la mette dentro però da andare Rajcevic ma è troppo scaldabagno pure Rajcevic vai Gil fai ripartire i tuoi bravissimo vai Rajcevic ma la palla sempre a lui arriva non so perché bravissimo qui il lavoro per Teio vai Teio vai Teio vai che ti sei mosso benissimo Teio deve appoggiarsi avvolgiarsi azione avvolgente da parte dei nostri eccolo Selke Selke col tiro a giro ancora Siriku mannaggia ci sta provando il nostro Selke si così Teio perfetto il dialogo qui ragazzi devo cercare di far dialogare meglio le due punte perché secondo me se trovano l'intesa giusta risultano devastanti bella così vai a te Boer vai a te Boer frena aspetta un compagno perfetta così madonna la palla arriva a Selke Selke deve difendere lo fa bene ancora Nacho Gil metti là dentro fuori gioco probabilmente di rientro si bello vai che qua ha sbagliato vai Selke vai Selke col destro fuori mannaggia non riesco a centrare la porta con Selke dai 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 Bari facciamo capire chi è che comanda in questa partita venitevi a prendere la palla a te Boer non può giocare da solo mannaggia calcio d'angolo per il Torino ragazzi stiamo attenti perché hanno dei buoni saltatori via sta palla bravo Mikai vai Mikai vai Mikai che l'ho visto solo Selke ok Selke fai salire Rajcevic ok vai Rajcevic che l'hai visto ma Gil poverino è da solo non è che poteva fare granché vai a te Boer perfetta questa palla recuperata c'è ancora Selke che la difende fa salire Barella vai Barella rientra e dai Barella madonna questo Amavi come terzino è veramente forte dai ragazzi che non manca tantissimo ecco non manca tantissimo e non dobbiamo fare questi errori occhio qua al Torino con Baselli fermatelo meno male che c'è stato questo rimballo ragazzi perché se no la vedevo veramente tragica ma perdiamo troppi palloni in uscita dai così ragazzi ripartiamo mannaggia anzi non dai così dobbiamo svegliarci vai Selke pallone allargato bella questa palla Rajcevic tienila bravissimo vai Gil vai Gil che hai visto Selke madonna Selke dovevi andare in anticipo l'arte aveva dato una palla meravigliosa bravo Gil che la recupera bello questo colpo di tacco Barella Barella la mette per Selke Selke la difende va bene va bene va bene rimessa da parte nostra ragazzi tutto in live non taglierò nulla qui voglio rendere partecipi vai vai così mettila dentro ancora Teio difendila Teio Teio col destro Siriku vabbè Siriku hai rotto le palle però dai col calcio d'angolo dai che mi sento che possiamo segnare Siriku ti pareva che doveva uscire sta merda di Siriku vai Krasic uh bellissima no Berenguer il Gallo Belotti ragazzi Gallo Belotti la mette dentro madonna che cosa ha fatto la Teboer peccato che qua manca poco manca poco non ci fanno fare l'ultima azione finisce il match ragazzi un pareggio che mi sta stretto maledizione vediamo un po' le statistiche eh ce la siamo giocata poteva vincere chiunque a dire il vero peccato peccato perché mi sa che abbiamo solamente quattro punti vabbè ok la scusa tra virgolette che è saltata qua vabbè salterà tutto ormai super bug l'abbiamo capito facciamo gli allenamenti è vero che abbiamo iniziato contro squadre veramente forti però col Torino qua qualche cosa potevamo fare sale Ferrari il che mi va benissimo poi volevo andare un attimo prima di simulare la partita con l'Udinese volevo andare nei vi faccio vedere la classifica vedete siamo quattordicesimi dobbiamo dare una svolta al nostro campionato poi vi voglio far vedere i lo staff no lo staff il vivaio e volevo promuovere il nostro o Navas o Reina dai promuoviamo Navas sinceramente e me lo metterò anche ad allenare per fare l'obiettivo contratto accettato Navas non c'erano dubbi e poi andiamoci a vedere ok abbiamo un milione 32 andiamoci ad avanzare il calendario per giocare con l'Udinese o meglio simulare con l'Udinese è bello l'Uruguay da allenare però non è il caso giochiamo in casa facciamo come vogliamo fare 4 2 3 1 ragazzi facciamo 4 2 3 1 che è la formazione un po' più affidabile e speriamo se riusciamo a vincere simulando con l'Udinese andiamo ecco subito gol di lasagna andiamo a 7 punti che non è male ma qua mi sa che già è tanto se pareggiamo mannaggia bravo Henderson vedi un po' se devono segnare i difensori dai Selke dai Piu e dai Gil regalatemi questa gioia forza forza ragazzi soprattutto tu Selke che ti devi sbloccare secondo me appena si sblocca fa una caterva di gol dai ragazzi dai che manca poco 1 a 1 finiamo a pareggio 5 punti in 5 partite la media di un punto a partita certo gli altri non è che stanno facendo proprio meglio però certo facendo una vittoria Benevento 9 punti facendo una vittoria già sei lì sopra però dobbiamo farla questa vittoria ok accettato De Luca di trasferirsi in prestito va bene giocatore squalificato Kresic facciamo prima di chiudere l'episodio ragazzi gli allenamenti modifichiamo però togliamo fatemi pensare io toglierei Mikai e ci metterei fatemi pensare ah si il nuovo giocatore che abbiamo preso dove sei dovresti essere qua eccolo qua Navas 17 anni alleniamolo nel dribbling perfetto quindi poi una volta che salgono di 10 questi due giocatori li dobbiamo far giocare non sarà semplice Zanellato diventa un 72 il che tanta tanta roba Navas non è salito di un millimetro vabbè dettagli vediamo per il prossimo episodio nel calendario con chi giochiamo eh Inter cioè proprio ok e poi ah finalmente arrivano partite un po' più semplici Genoa Bologna Sampdoria poi c'è il Chievo ok dai possiamo riprenderci nei prossimi episodi speriamo bene quindi ragazzi tanti mi piace per questo episodio tanti 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 iscritti mi raccomando e noi ci vediamo in un prossimo video ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti